Sabbia d'oro Lignano sabbia d'oro, riviera, pineta, vacanze ideali per grandi e piccoli Aqua Splash, parco giochi nell'acqua, è stato il primo nel suo genere in Italia Importante struttura complementare alla spiaggia per migliaia di turisti provenienti da tutta Europa Il parco zoo, immerso nel verde, progettato e realizzato con amore e rispetto per la natura amica può considerarsi uno dei più vasti e curati d'Italia Per sportivi e nonne a Lignano c'è anche un importante centro termale per cure elioterapiche e talassoterapiche Un campo da golf a 18 buche con ulteriori grandi possibilità di sviluppo Ha un green apprezzato dai grandi specialisti di questo sport Che dire poi della splendida laguna di Marano Un ambiente ecologicamente protetto che racchiude anche un'oasi avifaunistica del WWF E tra le cose davvero utili e belle di Lignano C'è anche questa deliziosa arena molto amata dai giovani E anche per questo Festival Bar torna sempre molto volentieri a Lignano San Biador Ciao! Grazie a tutti.